In attesa di capire come andrà a finire questo campionato con i rossoneri in piena corsa per raggiungere il grande obiettivo stagionale, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League, in via Aldorossi si inizia a programmare il futuro. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza i possibili scenari in tutti i reparti. Difesa In casa rossonera la vicenda più spinosa resta il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il Milan ha da tempo presentato la sua offerta, 8 milioni di euro a stagione, ma per il momento dall'entourage del portiere non è arrivata nessuna risposta. Tutti sanno bene quanto sia importante la sua permanenza e quindi faranno tutto il possibile per convincerlo a prolungare. Per quanto riguarda il reparto difensivo l'intenzione del club milanista è quella di riscattare Tomori, versando 28 milioni di euro nelle casse del Chelsea. Mentre resta incerto il futuro di Alessio Romagnoli, che rischia di partire un passo indietro rispetto alla coppia Chier-Tomori. Il Milan discuterà poi molto presto con il Manchester United anche il futuro di Diogo Dalot, attualmente in prestito secco a Milanello. Centrocampo In questo reparto ci sono diverse certezze. La coppia Chessy Benazer farà sicuramente parte del futuro della squadra rossonera, così come è certo il riscatto in estate dal Brescia di Sandro Tonali. Il Milan sembra poi intenzionato a prendere a titolo definitivo anche Meite dal Torino per 8 milioni di euro, mentre Krunic potrebbe cercare una nuova squadra dove giocare con più continuità. Attacco È attesa molto presto la firma del rinnovo per un'altra stagione di Zlatan Ibrahimović, che guiderà ancora il reparto offensivo milanista. Il Milan è poi da tempo al lavoro per il prolungamento anche di Akan Cialanoglu, ma per ora la differenza tra domanda e offerta è di 2 milioni. Come per Dalot, i dirigenti rossoneri proveranno a trattenere anche Brahim Diaz, ma andrà trovata la formula giusta con il Real Madrid. Rebic e Leao sono due certezze, mentre in questo finale di stagione Mario Mandzukic si giocherà la conferma per un altro anno. Rebic e Leao